Live interi Juve, l'amo viola, braccio di Rabiot go di Kostik. Perché è stato convalidato? Minuto 23, contropiede Juve con Rabiot che controlla, scambia con Vlauvi che poi offre l'assista sinistra per Kostik che insacca l'1-0. La partita si ferma per 4 minuti per un controllo VAR, al momento dello stop di Rabiot a inizio azione c'è un sospetto contatto col braccio sinistro del francese. Le riprese però non offrono un'immagine netta, nella migliore Rabiot ai di spalle e nasconde l'eventuale tocco irregolare. Un'immagine chiara c'è invece del braccio di Vlauvi che poche frazioni di secondi dopo. Ma era aderente al corpo, dunque non punibile. Sul proseguimento dell'azione c'è anche un sospetto controllo ancora di Vlauvi col braccio. Ma le immagini non dimostrano il contatto. In sala VAR lungo controllo ma la mancanza di un'immagine evidente spinge Kifi a restare con la decisione sul campo, gol di Kostik convalidato. Il derby d'Italia è da sempre una delle partite più sentite in calendario, anche sul piano delle polemiche e degli episodi. A dirigere il match di San Siro è stato chiamato Daniele Kifi, assistenti preti e berti. Con Marinelli quarto uomo, al VAR Mazzoleni con assistente piccinini.